Ora si registrerà la conferenza. Buona settimana a tutti e benvenuti a questa puntata alquanto sui generis del nostro video tutorial quotidiano. Sui generis perché non abbiamo in questo momento a disposizione il nostro sito essendo sotto manutenzione. Caminsun non è l'anticipazione dei film di quest'estate ma è il fatto che noi torneremo presto in rete con il nostro sito e quindi approfittiamo della nostra pagina, del nostro canale YouTube per fornire le indicazioni che normalmente forniamo nel fine settimana. Allora andiamo un po' avanti. C'è una puntata dedicata soprattutto al mercato italiano ma cominceremo da una visione di insieme ai mercati internazionali per un motivo molto molto semplice come era stato annunciato in tempi non sospetti avrei atteso la fine della seconda settimana di luglio quindi questo fine settimana per cominciare a pensare seriamente alla costruzione dei nuovi portafogli che erano stati chiusi in giugno quindi alla fine del trimestre precedente. Questa è la pagina con cui noi apriamo normalmente il canale YouTube e adesso vi facciamo vedere come a giocarci la partita siamo noi e quindi noi cominciamo, il destino ha disposto almeno parzialmente le proprie carte e adesso noi cominceremo a vedere quali carte abbiamo a disposizione per poter giocarci la partita nel migliore dei modi possibili ovviamente è tratto da codice rosso in questo momento siamo ospiti dell'Accademia del Gru nel vero senso della parola anche perché i nostri servizi si trovano unicamente in questo momento sul sito dell'Accademia ma è una cosa temporale non contiamo che già da domani cioè da lunedì si possa ritornare tranquillamente in rete e vediamo un po' che cosa ci dice questo che è il report ufficiale dell'Accademia del Gru cosa ci dice sui mercati azionari mondiali allora vi dico subito che quel che voi dovete soprattutto guardare sono le ultime due colonne cioè quella per il 2 di luglio e quella del 9 di luglio è un report su base settimanale quello che però è accaduto prima che trovate su sfondo diciamo bianco creme molto leggera non è indifferente perché è lo storico di quanto si aveva allora la prima cosa che si nota molto molto facilmente guardando la differenza tra quanto è accaduto dopo il 9 luglio e quanto era accaduto praticamente all'inizio del mese è il fatto che il nostro mercato comincia ad entrare un po' in difficoltà non tanto per il destino quanto nell'orizzonte degli investitori cioè è come se in questo momento gli investitori rispetto al nostro mercato abbiano qualche dubbio in più rispetto a quello che hanno avuto in passato il destino però è ancora confortante una cosa abbastanza analoga riguarda l'azionario Asia che in realtà negli ultimi tempi cioè soprattutto nel mese di giugno aveva recuperato un aspetto decisamente migliore ma qui in questo caso abbiamo tanto l'opinione degli investitori quanto in questo caso per noi soprattutto il destino che comincia ad avere qualche difficoltà difficoltà molto molto forti tanto dal punto di vista dell'investitore quanto dal punto di vista del destino per quel che riguarda l'azionario Africa ma direi che per quel che riguarda gli investitori questa difficoltà c'è sempre stata personalmente se noi l'abbiamo messo qui in realtà non abbiamo queste grandi difficoltà però è vero che il destino dell'azionario africano a partire dal mese di luglio ha cominciato ad andare in difficoltà è una criticità che con la seconda settimana di luglio si è fatta un po' più accentuata è grande difficoltà invece permane sul BRIC nonostante qualche tentativo timido di recupero da parte degli investitori ancora molto bene invece quelli che sono diciamo l'azionariato emergente o mercati di frontiera i mercati di frontiera sono poi i veri emergenti cioè la Cina non è più un emergente il Brasile, la Russia, l'India non sono più mercati emergenti tanto che fanno parte del BRIC negli emergenti ci trovate molte più cose potete attuarci dai mercati africani che mi hanno visto prima però non in Sudafrica troverete magari la Nigeria potreste trovare il Vietnam ad esempio in Asia sono quei mercati di frontiera è un aspetto molto particolare su cui bisognerebbe focalizzare un po' di più l'attenzione da parte di tutti perché emergente vuol dire ben poco frontiera vuol dire qualcosa di più interessante dal punto di vista del lungo periodo in ogni caso in ogni caso al momento direi che chi sta ufficialmente bene è l'azionario mondiale su cui gli americani incidono evidentemente tantissimo sta bene l'azionario Europa e queste tre sono praticamente le aree veramente principali su cui focalizzare la nostra attenzione l'America è come sempre capace di risollevarsi dalle situazioni più critiche avendo a disposizione non una ma sette vite l'Europa a dispetto di quello che sta accadendo in Italia ma attenzione sempre dal punto dell'investitore non del destino l'Europa prosegue un cammino ancora confortante qual è il problema? il problema è che poi magari lo vedremo ancora meglio nel dettaglio forse si può anche pensare che le posizioni raggiuntesi qui dai mercati azionari americano e europeo in generale possono essere mantenute quel che al momento parebbe però ancora mancare è il famoso scatto in avanti che tanto l'America quanto l'Europa parebbero non essere in grado di dare in questo momento attenzione se rimane al prossimo termodire delle cose non essere in grado di dare e quindi non si capirebbe per quale motivo eventualmente noi dovessimo costruire dei portafogli all'interno questi mercati che poi sono veramente quelli principali perché nella azionaria mondiale fondamentalmente oltre il 50% e forse anche oltre il 60% diciamo anche il 66% è praticamente coperto dai mercati occidentali questa è la verità va bene comunque noi andiamo avanti questa è la situazione sul mercato azionario in generale questa invece sul mercato obbligazionario l'obbligazionario c'è un primo tra virgolette leggero colpo di scena per l'obbligazionario America che era quello che aveva sofferto o che pareva poter soffrire più di tutti nell'ultime due settimane ha recuperato un aspetto ben più confortante quasi che a questi livelli siano già scontati ampiamente gli aumenti di tassi e quindi a questo prezzo il mercato obbligazionario americano potrebbe essere interessante il mercato obbligazionario italiano è una fase tra virgolette più di incertezza perché quando si parla di obbligazionario poi fondamentalmente non è che le variazioni percentuali in questa fase siano particolarmente enormi quindi c'è una situazione di incertezza situazione di incertezza che riguarda anche l'obbligazionario Europa non riguarda il corporate bond a yield che trovate qua sotto e non riguarda ovviamente i corporate bond americani perché se le obbligazioni americane vanno bene a maggior ragione vanno ancora meglio maggior ragione non l'ho detto però in questo caso a maggior ragione vanno ancora meglio i corporate bond americani quindi l'obbligazione delle aziende per quel che riguarda invece le valute le valute abbiamo una grossa difficoltà dell'euro che comporta un problema oggi tutto quel che noi dovessimo comprare all'estero ci costa di più di quel che avremmo pagato diciamo un mese fa grosso modo un mese fa uno o due mesi fa è anche vero che quel che noi compriamo se l'euro resta debole perché questo poi potrebbe anche essere anzi addirittura si indebolisce ancora di più potrebbe permessi di guadagnare molto di più di quello che in questo momento noi possiamo immaginare il dollaro è una valuta forte la serena è una valuta forte poi altre valute forti non ce ne sono sono per gli investitori per quel che riguarda yen giapponese direi che è un flying to quality un po' a metà questo nel senso che aspetterei a dirlo ecco mi sembra un po' prestino per poterlo dire però insomma questo è quel che vediamo oggi poi vedremo più avanti e invece per quel che riguarda le commodity abbiamo un piccolo problema sull'agricoltura in termini di destino ma comincia a essere un grosso problema in termini di investitori un problema che è grosso sia in termini di destino che in termini di investitori per quel che riguarda quelli che chiamiamo i grani che non è proprio l'agricoltura questa è un'altra cosa è un problema che parrebbe venire un po' scemando su quello che sono i metalli preziosi in particolare perché a questi prezzi ad esempio l'oro può essere un'opportunità diciamo potrebbe essere col condizionale perché al momento non lo è ancora è vero che ad esempio l'oro che qua sta praticamente l'incertezza ha preso il posto della criticità però è ancora presto per poter dire qualcosa di più è passata solo una settimana fondamentalmente chi sta bene sono i metalli industriali l'energia il petrolio in particolare e in generale visto il peso che ha soprattutto l'energetico sulle commodity le all commodity in generale questo è il quanto per quel che riguarda i mercati azionari e finanziari mondiali qui ci fermiamo un attimo e facciamo un salto passando a vedere un'altra cosa che riguarda un rapporto tra il nostro mercato e il Dow Jones ora si registrerà la conferenza e questo è il grafico settimanale del Dow Jones che come vedete galleggia nel vero senso della parola attorno ai propri massimi storici che però sono massimi che aveva toccato già in maggio e se posso proprio dirla tutta se dovessimo partire dalla metà di aprile siamo quasi alla metà di luglio sono circa tre mesi che fondamentalmente non ci schiodiamo un granché da questa situazione in ogni caso direi che è un dato confortante perché le attese erano a un certo punto decisamente negative gli americani hanno fatto ricorso ad almeno sei delle loro sette vite è rimasta ancora una vedremo per cosa la useranno e comunque queste sei vite sono state spese molto bene perché ha permesso agli americani di salvare come si può dire baracca e burattini questo è lo stocastico settimanale che ci dice allora la linea verde è quella dell'impulso ci dice che l'impulso ormai è arrivato a destinazione e oltre a questo non può più andare si tratterà di capire se questo fortissimo impulso che è presito da zero ed è arrivato a 100 sarà sufficiente per consentire all'inerzia che è quella bianca di proseguire al rialzo il movimento si è già adeguato ma anch'esso mi pare un po' più vicino a quello che è l'andamento dell'inerzia che non quella dell'impulso cosa importante da osservare per quel che riguarda l'inerzia non tanto l'impulso che qua conta poco il fatto che si sia arrivati a zero piuttosto che a 10 poco importa è il fatto che l'inerzia per la prima volta dopo tantissimo tempo cioè dallo scorso anno grosso modo ottobre si è portata sotto la linea dei 60 punti e adesso tenta di riemersere questo è un dato negativo negativo in quanto destino però come detto le 6 vite sono state sufficienti a recuperare la linea dei 60 punti si tratta di capire poi che cosa succede con le prossime settimane e invece direi che sta molto male sotto questo aspetto il MACT settimanale del Dow Jones che vedete come da settembre non era mai andato con la sua media mobile più rapida al di sotto al di sotto dell'inerzia e quella vedete invece bianca che è la media mobile più lenta è sempre stata la media mobile più rapida sempre sopra invece abbiamo cominciato a scendere praticamente a giugno siamo ancora sotto potrebbe essere che si reagisca comunque in ogni caso questo non è un segnale positivo direi quasi parrebbe quasi un destino segnato se non fossimo a confronto con gli americani andiamo a vedere invece cosa succede su Bale Giornaliera su Bale Giornaliera abbiamo il fortissimo impulso dell'ultima seduta che ci ha riportato praticamente a cavallo di questo gap che era già stato chiuso attenzione non siamo ancora non abbiamo ancora raggiunto i massi che sono qui potremmo farlo settimana prossima e si tratterà di capire se accade ma attenzione qui siamo su Bale Giornaliera quindi tutte le indicazioni che vengono fornite su questo valgono per un giorno o per l'altro o forse uno o due giorni tre giorni per l'altro poi si tratterà di capire quanta continuità tutto questo c'è in funzione di una settimanale che in realtà non parrebbe essere così predisposto a fornire questa continuità vedete che anche qui ormai l'impulso ha toccato o quasi i cento punti mentre questo recupero dell'impulso che poi è tutto da ascriversi alla seduta di venerdì non è stato in grado ancora di invertire a rialzo l'inerzia direi che per quel che riguarda il mercato americano se si fosse concluso tutto quanto giovedì avremmo avuto l'impulso qui l'inerzia il movimento qui e avremmo potuto pensare che il destino essendo un dato settimanale poi fondamentalmente se si fosse chiuso venerdì scorso anziché venerdì sarebbe potuto essere forse segnato definitivamente invece abbiamo un recupero però devo dire che è un po' forzato sul MACD giornaliero che non ha la stessa importanza purtroppo del MACD settimanale si tratterà di capire che cosa accade nei prossimi giorni direi che per quel che riguarda gli americani la prossima settimana comincia a essere veramente decisiva più che altro tutte le settimane sono decisive ma qui abbiamo un qualcosa di più sappiamo la situazione del mercato americano è ampiamente critica su base settimanale ampiamente critica perché il MACD settimanale è un indicatore normalmente molto stabile pigro ma particolarmente stabile quindi invertire la sua tendenza è veramente difficile però non è ancora non siamo ancora giunti al momento decisivo e può essere che il giornaliero riesca a recuperare più di quanto ha fatto sì qui dando poi una svolta allo stesso settimanale quindi la prossima si apre all'insegna di che cosa di un qualcosa che evidentemente dovremmo andare a cercare cioè la continuità del movimento rialzo del mercato americano venisse meno questa continuità quindi si tratta di salire non di rimanere soltanto fermi i rischi potrebbero essere veramente veramente enormi e adesso finalmente passiamo al nostro mercato il nostro mercato è stato certamente meglio del mercato americano per lungo tempo direi che sono le ultime due settimane che hanno preso a penalizzarci parrebbe poca cosa visto qui ma abbiamo visto prima che per quello che riguarda la nazionale d'Italia sono soprattutto le indicazioni che vengono fondite dagli investitori sono investitori che sono molto più dubbiosi sul nostro mercato di quanto possa essere il destino però è anche vero che lo stocastico settimanale comincia a fare notevoli capricci per il nostro mercato ed è un buon motivo per cui in questo momento per capirci il mercato italiano non si perché parliamo di stocastico settimanale il nostro mercato non potrebbe essere messo in portafoglio in questo momento o perlomeno il sottoscritto non lo metterebbe in portafoglio anche perché il market settimanale dopo tanto tempo è finito praticamente sotto il market è quello rosso andare sotto l'inerzia da parte il market non è un problema eccessivo ma qui si vede poco in realtà abbiamo la stessa situazione che abbiamo avuto sul mercato americano e cioè abbiamo la media mobile più rapida che è andata sotto la più lenta e questo anche se di poco molto meno di quello che è accaduto sul mercato americano questo è un segnale certamente negativo segnale negativo che non è confortato dal dato giornaliero il nostro grafico su base giornaliera perdonatemi fa alquanto diciamo schifo però insomma questa potrebbe anche essere interpretata come una figura forse alzista staremo a vedere perché io su queste cose qui do sempre la priorità a quel che vedremo dopo non quel che ci immaginiamo di vedere adesso mentre invece mi pare che il nostro grafico giornaliero attesti è una fase distributiva ed è questo che poi comporta il fatto che gli investitori mostrano una maggiore incertezza sul nostro mercato di quanto fatto sin qui cioè tutte le volte che la situazione potrebbe andare un po' a carte 48 c'è un forte impulso che tende a recuperarla e fondamentalmente il nostro mercato si muove con la sua inerzia che non è granché ma in ogni caso tra i 40 ai 60 punti che è l'area della neutralità tenete conto che per poter andare a migliorare la situazione bisogna fare esattamente i mercati cercare di portarsi oltre i 60 punti e questo è il mare giornaliero del nostro mercato che attesta ma era già da un pezzo che le cose andavano così direi anche se poi la stabilità del settimane ci ha mantenuto in auge per tanto tempo però qua è evidente che già da poco dopo la metà di giugno il nostro mercato pareva meno brillante di quello che era apparso precedentemente questo è quanto adesso passiamo direttamente all'analisi tipo semiotico del nostro mercato ora si registrerà la conferenza questo è il nostro potente mezzo in Excel che noi postiamo quotidianamente nelle aree riservate il nostro sito ma che non abbiamo potuto postare in questi ultimi giorni è l'unico servizio che non abbiamo potuto postare perché poi in una qualche maniera ce la siamo cavati anche attraverso ad esempio la nostra pagina Facebook abbiamo postato gli altri report ma questo in Excel è troppo pesante e non possiamo postarlo non abbiamo postato né questo che è dedicato ai mercati internazionali né gli altri tre che sono dedicati uno esclusivamente al mercato italiano né quello in ETF azionari né quello in ETF non azionari ci spiace e adesso insomma recupereremo il tempo perduto nei prossimi giorni allora il nostro potente di mezzo di Excel ci dice quel che già abbiamo detto cioè che la situazione sul nostro mercato per quel che riguarda vedete analisi semiotica ha mostrato un colore giallo giallo incertezza non è stato così fino a una settimana fa ci siamo sempre mossi sul verde mentre per quel che riguarda l'analisi operativa è un verde ma molto molto spento quello che vediamo adesso andiamo a vedere la console di sintesi vedete che la console di sintesi si dice che il quadro sul nostro mercato perlomeno per chi ci ha seguito sin qui dallo scorso semestre è cambiato radicalmente noi avevamo tre stelle oggi non si ne vede nemmeno uno vedete un zero anzi meno di zero in questo caso perché è rossa se ero a zero ci sarebbe apparso come indicazione un giudizio medio lungo pari a 4 mentre prima avevamo sempre avuto il 6 un giudizio benissimo pari a 3 e spesso siamo stati a ridosso del 6 5 6 5 6 l'abbiamo giocato tante volte con un giudizio globale che ballava tra gli 11 e 12 punti cioè stavamo benissimo adesso non stiamo più così bene anzi non stiamo affatto bene e infatti il giudizio insieme ma questo rosetto è negativo ancora giallo ma è già negativo sopra il meno 1,50 quindi cominciamo ad andare tra un po' probabilmente comparirà anche un colore più vicino al rosso che al giallo il mantenimento non è più quegli 11 12 punti cioè mantenere la posizione molto tranquillamente ma siamo a 4 l'utilità di breve è più che altro legata a quel che può fare un trader in questo caso perché è più che di breve qui mi pare più di brevissimo la situazione cioè approfittare delle criticità mentre invece aumenta evidentemente con la discesa dei valori l'utilità di lungo periodo cioè sul lungo periodo del nostro mercato fondamentalmente non ha grossi problemi se qualcuno dovesse chiedermi dove saremo l'anno prossimo a luglio direi che molto probabilmente adesso un mese per l'altro dovremmo avere prezzi ben più alti degli attuali però quel che accade nel frattempo al momento non è confortante e quindi tenere la posizione si può fare quando le indicazioni di mantenimento sono molto alte quando abbiamo un verde spinto quando il verde spinto non c'è più mantenimento a posizione diventa veramente difficile non è un caso che noi si sia chiuso tutti i nostri portafogli grosso modo alla metà di giugno scorso e se poi voi non potete vederlo ma ve lo posso dire io fondamentalmente per quel che riguarda il mercato italiano è stata una scelta giusta corretta si sarebbe oggi mantenendo le stesse cose in portafogli avremmo molto meno di quel che abbiamo ottenuto vendendole a metà di giugno sui mercati invece internazionali i nostri portafogli hanno alcuni sono andati un po' meglio dopo che non abbiamo venduto altri un po' peggio quindi direi che aver venduto non aver venduto in quel caso è quasi indifferente c'è la variazione percentuale di un punto o due non di cinque punti ma potrebbe essere sul mercato italiano e quindi si sarebbe dovuto non potuto fare la differenza sostanziale è che quando voi siete investiti avete solo quello con cui sperare di poter guadagnare se avete la liquidità avete tutte le opportunità del mondo per sperare di guadagnare questo è ovviamente il dato banale possiamo andare a vedere adesso le prossime pari di analisi semiotica vedete che per quel che guarda l'intenzione di operatori siamo molto molto risicati infatti avete visto lo dicevamo prima siamo all'incertezza 0,1 destino ancora positivo qui avete il grafico vedete come il nostro mercato non è che noi siamo proprio dei fessoni avendo venduto alla metà di giugno abbiamo fatto una scelta che se fosse stata riferita soltanto al Fuzimib avessimo avuto soltanto il Fuzimib in portafoglio un etf sul nostro mercato sarebbe stata una scelta evidentemente opportuna perché da allora due punti e mezzo percentuali si sono persi tutti ora noi potremmo andare avanti e possiamo vedere destini eccetera ma andiamo a vedere direttamente le supremazie ora vi spiego per chi non ha mai visto questo indicatore che cosa che cosa ci dice allora voi avete in giallo l'intenzione degli operatori che si sono fermate a 0,1 l'avete visto prima con un histogramma e avete invece il destino che si è fermato qua poco sopra i 4 ma dal punto di vista tendenziale che è quella linea tratteggiata azzura per quel che riguarda il destino e quella tratteggiata gialla per quel che riguarda l'intenzione degli operatori il dato è certamente prospetticamente negativo quindi il nostro mercato non dico che sta andando per le terre come si suol dire ma ci sta provando ad andare per le terre cioè la sensazione è proprio questa dal punto di vista prospettico in questo momento ci sono e attenzione qui si parla su base settimanale quindi è un'indicazione che riguarda non soltanto il mese di luglio ma anche parte se non totalmente il mese di agosto grossomodo andiamo dalle 5 alle 6 settimane 3, 5, 6 settimane a seconda e sugli indici sono un po' più lunghi i periodi sui titoli sono un po' più corti e si tratterà di vedere quel che potrebbe accadere direi che possiamo vedere anche la tendenza dei prossimi giorni che qui si parla proprio di giorni anche se l'indicatore è su base settimanale ma attenzione a questo si muove giorno dopo giorno quindi non abbiamo più un obiettivo a 3, 5 settimane ma siamo ad un obiettivo a una settimana e vedete quel che si diceva prima come praticamente dal punto di vista prospettico questa linea rossa tratteggiata è proprio quella della prospettica le cose potrebbero non andare granché bene e poi ultima indicazione è questa allora noi andiamo a prendere il percorso su base trimestrale che è quello chiamatelo ciclo di lungo periodo così non vi dannate per chi non conosce questo strumento non si danna particolarmente l'anima e vede come sul lungo periodo noi siamo in una fase d'acquisto attenzione fase d'acquisto all'interno di questo trimestre il trimestre si chiude il 30 di settembre e abbiamo eventualmente tutto il tempo per entrare quando ci saranno costruite le opportunità per poterlo fare se dovessimo andare però su base mensile e quindi sul medio lungo periodo vedete che siamo già entrati in una fase di distribuzione fase di distribuzione non vuol dire che venga venduto tutto il nostro mercato vuol dire che in una parte il nostro mercato è certamente venduta forse se ne ricompera un'altra cioè quei soldi servono per comprare un'altra in ogni caso una fase di distribuzione non è una fase necessariamente ribassista non è necessariamente ribassista è un change la fame per capirci potrebbe anche essere potrebbe diventare una fase ribassista potrebbe anche essere trasformarsi in una nuova fase di razzista più avanti e questo è il quanto è però una fase con un'operatività su base mensile ad alto rischio andiamo a vedere su base settimanale e su base settimanale siamo sempre una fase distributiva ma qui il rischio è quello che avete percepito giovedì per capirci su base settimanale cioè giovedì il mercato perde quasi 3% e quello è un rischio che si percepisce molto bene poi recupera venerdì e ovviamente all'operatività ad alto rischio resta sempre ad alto rischio ma ovviamente il rischio viene meno cioè la sensazione del rischio viene meno perché abbiamo recuperato tanto ma fase 6 resta sempre una fase alto rischio alto rendimento ora l'alto rendimento però lo si fa esclusivamente o quasi esclusivamente su base giornaliera andiamo a vedere quindi su base giornaliera e vedete che siamo in fase 7 fase anche questa tra virgolette distributiva ma proprio al pelo al pelo al pelo andando qui sotto la fase non sarebbe più distributiva ma sarebbe una fase di vendita ora si tratterà di capire se interviene o non interviene quella continuità che abbiamo visto mancare negli ultimi tempi continuità rialzo continuità rialzo qui non è più importante tenere qui bisogna proprio per poter avere alto rendimento bisogna evidentemente invertire rialzo perché certe volte si vanno a segnare anche nuovi massimi di periodo in questa situazione ma non è in fase 7 è in fase 6 cioè se il nostro mercato riuscirà a passare nei prossimi giorni faccio un esempio da quest'altra parte cosa che su base giornaliera può venire molto facilmente allora quel famoso alto rischio alto rendimento potrebbe essere non soltanto alto rischio ma davvero alto rendimento staremo a vedere ultimo step andiamo a vedere l'analisi operativa qui abbiamo il brevissimo periodo potete vedere quali sono gli obiettivi a rialzo e a ribasso siamo sui 25.000 potete vederlo da voi possiamo anche cambiare e passare su base settimanale e vedete che su base settimanale insomma grosso modo quel che bisogna tenere si può rivederlo ancora una volta è l'area dei 24.500 punti per poter confidare in una tenuta del nostro mercato sotto a quello le cose non andrebbero certamente bene lasciamo per adesso il mensile e il trimestrale che in questo momento non ci sono il mese luglio appena iniziato figuraci il terzo trimestre dell'anno andiamo esclusivamente a vedere dal punto di vista del brevissimo che è quello che più ci interessa quale può essere l'operatività e purtroppo in questo momento secondo il nostro buon Rasputin a 5-6 sedute non c'è motivo di acquistare una posizione e piuttosto valutare se venderne una allo scoperto vediamo se questa indicazione c'è per ora fortunatamente no astenersi dal vendere posizione allo scoperto e valutare invece se acquistare in una breve come dire figlioli miei state molto attenti a quel che fate noi staremmo da parte nostra altrettanto attenti se non più di quanto potete far voi e eventualmente qualsiasi indicazione operativa debba essere assunta sarà nostra premura fornire l'indicazione nel più breve tempo possibile e anche se il nostro sito dovesse rimanere fermo domani troveremo comunque il modo per poter rifornire questo tipo di indicazione con questo vi saluto auguro a tutti una buona serata è domenica io lo dico sempre io sono di origini svizzera e quindi non partecipo stasera alla Kermesse Italia e Inghilterra anche se la verità dovessero vincere gli inglesi non mi farebbe per nulla piacere saluto a tutti e buona settimana grazie